mitici il grande zan eboy e ciao 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 a tutti andiamo un po su rec room mitico gioco mitico 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 lo colla m mitica vai allora sta giocando zan eboy perché lui è un grande di queste cose io sono qui con lui commentiamo giochiamo insieme maglietta ok dai cestino cestino canester o canestro nel cestino nel canestro nel cestino fico mi piace la cosa fichice dai 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 ce la fai ce la fai forse dito dito no no va sul muro incredibile neanche a un centimetro andiamo a disegnare un pochino vai vai tu e commentato con i nostri amici ok allora cosa disegniamo questo allora ho già fatto male disegnato male no stava venendo benissimo vabbè ragazzi intanto che disegniamo è difficile disegnare con controlla però eh sì è vero allora prendiamo la buttiamo giù questa prendiamo l'azzurro per il visore cosa sta uscendo e arancione per il colore della tuta uno due bello ma cos'è among us beh ci stava di brutto però eh allora se clicchiamo option abbiamo diverse cose abbiamo le challenge ok giochi ok andiamo su giochi amore mio c'è un po la voce così i ragazzi sentono bene la tua bella voce andiamo sui giochi si e troviamo tante modalità tipo paintball nelle background e poi vabbè a me piace quello golden trophy sinceramente dov'è quello lì 300.000 ma possiamo farne noi che poi la gente gioca alle nostre eh non lo so vedremo dai la prossima volta se riusciamo ne facciamo una figa beh penso proprio di sì che si può pagare eh sì penso sì però giochiamo qualche modalità vediamo un po allora facciamo c'è l'altra tag stante runner se no possiamo fare questa qua paintball ok no paintball ficca figata paintball yeah baby ok stiamo entrando ready to start no no ma ho equipaggiato la magliettina ho una granata e non ho paura di usare vediamo boom bellissimo adesso ho fatto esplodere addosso inizia tra lì si scordi il mio gioco game on capture the flag ok sta iniziando il gioco ho una pistolina siamo in un garage grazie mamma sai mia no mi ha ucciso perchè allora... devo mirare bene no non per me con la scusa io devo mirare lui allora andiamo un pochino se ne troviamo con quest'altra arma è paintball forse è capture the plug ah no è capture the plug capture the plug ho una granata perfetto allora andiamo così qua ci sono delle mine addirittura delle mine bello forza aspettano le mine cosa è successo? no non lo so mi hanno sparato non so da dove sto piazzando le mine vabbè la bandiera non ce l'hanno presa però bello la musica eccolo lì è stato morto eh ma non sei sotto giù no è stato morto ah ok ho double pistola adesso no è morto il mio compagno ecco uno è morto ho ucciso uno uno si sta rampitando ucciso bene scappo ho doppia pistola che figliata ah ma l'abbiamo bello allora vediamo un po' di qua questa qua è la base dell'elita quindi devo stare attento oh no ho perso le mie due pistole no pistole allora vediamo un po' di qua qui sta venendo prenderci la bandiera la granata perfetto vediamo se trovo qualche arancione si da da matare esplode boom come che sia su pistola no ho ucciso il mio compagno no ho ucciso il mio compagno no ho ucciso il mio compagno ok ok dai 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 let's go però non so se questa qua fa male però dipende no mi hanno ucciso la mia arma è qua la vado a prender caccia dai ho appena trovato la nuova arma va bene qui eccola l'ho ripreso ho ucciso qualcuno con la mia mina uno ucciso gra K.O c'era tipo sopra però o sia stato suo grande ma qui è online o è computer online online uno abbandonato abbandonato oh my god no ho preso l'arma vabbè è morto però la vado a riprendere io mi sto chiedendo dov'è la bandiera no si hanno preso la bandiera red flag dropped red flag dropped red flag returned red flag returned no 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 se fa danno se fa danno quell'arma lì però io la prendo lo stesso cioè non ho nemmeno tempo di imparare che si fa ah mi hanno te ucciso oh non c'è l'arma non è rispondendo no l'ha preso il pizzo il pizzo bubù ha preso l'arma ecco 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 c'è ecco 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 poi non mi sto chiedendo dove si trova l'… dove è la loro barchiera Ma cosa? Ma non si può Non so nemmeno se mirano Ma noi abbiamo la bandiera all'aperto Non so nemmeno se c'è la manca aperta la bandiera No dai 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 Ma la partita finisce? E' quando catturiamo la bandiera Cacchio cecchino cecchino dove vai? Allora di qua? La bandiera dov'è? Guardalo Sei visto? E' morto è morto è morto Non so nemmeno se catturiamo Dai 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 Non ho preso la bandiera No cazzo Ma dai che scemo fatto qua Red flag dropped L'abbiamo portata? Non lo so Eh no Red flag taken Non ce l'ha messo perché? No non ce l'ha messa è perché l'hanno preso loro quindi finché uno dei due non red flag che devi metterla lì ma ce l'hanno gli altri che non la prendono red flag ma c'è altra gente oltre te quello lì attenzione che stanno arrivando e loro vedono dov'è la bandiera perché c'è la striscia rossa non serve a niente a sconderlo bravissima ho chiquito red flag returns remaining flag returned ok 5 red flag taken 3 2 1 game over game over e chi ha vinto non lo so 10 tokens si sta eh come dice dobbiamo fare un altro gioco si un altro vai regalino regalino delle carte b non c'è l'italiano qua no ok hai uscito dalla lobby allora ready to start allora allora vediamo un attimo qua si possono creare ah vedi create chi è lasciare capire il ragazzo è uscito è uscita un altro pinball è uscito che è l'altersenza capire la flag si è uscito è uscito non è uscito è uscito è uscito è uscito non è uscito non è uscito di aprire sottcegliale Sì, è vero. è uno scudo uno scudo un scudo Pum! Pesco! Pum! Pesco! Va bene! Pum! 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 Basta per non si non per la scuola! Questa! Come il blu flag? Che che ci va? Ho visto! Blue flag dropped! Vedete! No! No! Come! C'avevo lo scudo! No! No! New flag returned! Blue team scores! No! 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 non copre creiamo una nuova stanza noi cosi ok siamo nella nostra nata Ok, amm... Oh, sto disegnando a caso... Allora, vediamo... Possiamo... colorare... Non lo so... Ok, allora... Proviamo a fare... un individuo... Molto spesso... Facciamo... È difficile però creare... Uno scuolo... Ok... 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 Aiuto... Allora, vediamo... Figuriamo... Cancello... Circuiti... Difficile creare le mappe... Vabbè... Vediamo un po'... Una mappa... E poi finiamo il video... Eccoci... Siamo nella mappa... Dai... Che figata... Facciamo questa... Poi salutiamo i nostri amici... Sì... Come dovete fare... Come... Allora... La modalità... Ok... Delle beccose... Dobbiamo risparmiare... Allora... Vediamo un po'... Come è fatta questa mappa... Local found dead... Oh... Due persone... Che sono passate a miglior vita... Ok... Cento... Modica... Tx... Tx... Oh... 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 Bello... Vabbè... Andiamo... Restare un pochino a casa... Qui non c'è niente... Niente... Sopro che dobbiamo uscire... Cento... 504... Niente... 503... Niente... 502... Niente... 501... Niente... 50... Niente... Penso che dobbiamo dare in questa scensura... Beh... Unica cosa che si potrebbe fare... Delle scensure... Ok... Quanto siamo usciti... Ok... Penso... Che stiamo arrivando... Sì... Si sta... Ok... Si è fermato... Ok... Siamo usciti... Dall'ascensore... Direttamente fuori dal... Oh... 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 Vabbè... L'hotel penso... L'hotel... Quindi... Ok... Di qua... Non vedo niente... Andiamo di là... Penso che dobbiamo andare dritto... Non so... Penso proprio di... No... Cosa... Questa luce che lampeggia qua... Non è la strada... Eh... Parti... Ah... Dove... Eh... Dove siamo? Eh... Mi ha appena in te... Eh... Eh... Ok... Allora... Stavamo camminando verso... Quella luce che lampeggiava... E siamo... Ci siamo teletrasportati in un furgone... Penso... Adesso vedo una luce qui... Molto lontana... Quanto è lontana... Oh... Ci siamo avvicinati... Di un bel po' anche... Eh... Questo sono... Dove siamo? Non possiamo andare indietro... Eh... Ok... Siamo arrivati in questo punto... Qui... Della storia quindi... Una luce... O un tele... No... È un telefono... Wow... Bello... Exit... Non funziona... Vabbè... È un disegno... Non si sa mai... Una telecamera... Oh... Bello... Andiamo avanti... Ok... Qua non c'è niente... Qui... Un'altra telecamera... Questa... 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 È un того... Oh... 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 Siamo fin... La vedo qualcosa... vediamo un po' qui guarda, sapevi questa cosa? no allora perfetto, bellissima questa cosa in mani ma che cosa bisogna fare? non ho ancora capito scusa, stavo scrivendo al cellulare dobbiamo scappare dobbiamo scappare da questo posto perché mi toccare un po' qui magari c'è un passaggio segreto un disegno brutto telecomer costelline dove porta? una sedia penso a una stanza vuota c'è qualcosa qui? eh, infatti un tunnel oh cos'è? c'è qualcosa? monna non fa paura oh che cos'è quello? no, è qui è qui no torna indietro dov'è? 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 dov'è l'uscita? ma è cambiato madonna è cambiato qua l'uscita e come si fa? non lo so c'è cambiata la strada non lo so qua vedo siamo entrati nella stanza della sedia c'è una luce che non è nulla non lo so tornamo indietro non è cambiato allora non lo so allora vabbè dai ascoltami è troppo difficile questo cosa vedo qua? vedo una mano o qualcosa è troppo difficile e spaventoso secondo me ovvè avanti ne facciamo oh 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 questo ci ha no 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 ci ha presi si ma no dai esci mamma mia questo ragazzo ma c'ha paura incredibile mi sono venuti i peli dritti mi sono venuti andiamo alla schermata home come si fa a uscire dalle missioni che questo è ancora una cosa che non ho capito bene ah così? si si deve andare su dormono incredibile direi allora dai fai ciao ciao con la manina una bella maglietta ci sta ci sta ah ci possiamo vedere dai equipaggiala o vuoi tenere questa? invece questa ah è questa ah allora ragazzi io vi dico sempre come tutte le volte di seguirmi su facebook twitter instagram tiktok wechat pinterest madonna quanti social twitter tiktok l'ho già detto wechat e discord ok ragazzi io non uso la metà di tutti quelli che ho detto comunque fa niente mi raccomando di iscrivervi su youtube e twitch che è la cosa importante e fondamentale ragazzi mentre lui fa tutte le cose strane con la manina ah 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 grazie zan e boy di attivare la campanellina un mi piace commentate ragazzi quando entrate nelle live salutatemi così riusciamo a dialogare e fare una bella bella live fichissima vero zan e boy e mi raccomando di portare gente e amici sul mio canale da marco drowns games è grandissimo zan e boy zan e boy è tutta rec room esatto rec room e c'è anche olivia che vi saluta da grandissimo rec room è finita questa meravigliosa esperienza di oggi ciao ragazzi ciao 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 ciao